Salve popolo di Youtube! C'è un podcast che dovete assolutamente ascoltare che è il podcast di Ars Ludica cioè Ars Ludicast è un podcast fatto da persone veramente molto competenti o almeno così dicono e soprattutto nell'ultima puntata che è su Retro Game ci sono anch'io come ospite non so quale sia la folla idea che li ha portati a invitarmi come ospite però ci sono anch'io quindi andate subito a vederlo e venite qui poi a postare insulti e commenti ah sì, postate insulti e commenti anche sulla pagina di Ars Ludicast mi raccomando alla prossima